lo odio vi ho già parlato di questo libro non voglio farlo di nuovo però vi avevo detto che mi aveva fatto riflettere molto mi correggo mi ha tolto il sonno sì perché prima conoscevo soltanto due categorie di persone la prima che aveva un lavoro la seconda quella che non aveva il lavoro dopo aver letto questo libro in realtà ho scoperto una terza categoria di persone che è fatta da chi il lavoro lo perderà e questo vale sia che tu sia un imprenditore sia che tu sia un dipendente perché il mercato è in continua evoluzione se sei un imprenditore di basta fare un errore non saper prevedere una crisi oppure non avere le spalle abbastanza forti per superarla una crisi che ti ritrovi così senza clienti senza fondi e non ti resta altro che chiudere se invece sei un dipendente fosse anche di una multinazionale basta che cambi il management basta che cambino gli obiettivi a medio e lungo termine oppure basta che arrivi un virus perché scompigli i piani precedenti e ti ritrovi con una lettera recapitata a casa con su scritto grazie c'eravamo tanto amati e così da un giorno all'altro ti ritrovi a 40 anni a dover ripartire da zero senza però più neanche la forza e l'entusiasmo di quando di anni ne avevi 20 e soprattutto senza avere più neanche la possibilità di riparare a un errore perché una delle cose più brutte della vecchiaia è che non è clemente e infatti a 20 anni mi ubriacavo mi svegliavo il pomeriggio successivo facevo una doccia andavo a giocare a pallone adesso posso ubriacarmi soltanto di venerdì perché per svegliarmi ci vuole lunedì successivo e così vi ho dimostrato che non so suonare neanche l'ukulele ora se c'è un gruzzoletto da parte è ancora la forza e il tempo per riordinare le idee e magari fare la cosa giusta ma se come me non c'è una lira la vedo dura anche perché il detto mal comune mezzo gaudio il mutuo non te lo paga fidati perciò proviamo a prendere in rassegna qualche opportunità ma prima vediamo come il lavoro è cambiato e magari come cambierà nel prossimo futuro negli ultimi 300 anni il tempo che abbiamo destinato al lavoro si è assolutamente compresso fino a 1800 esisteva una sola legge e rinvita lavoravi a fine 800 invece in inghilterra è stato abolito il lavoro minorile introducendo l'obbligo scolastico fino a dieci anni sempre a fine 800 otto van bismarck ha inventato la pensione di vecchiaia per i cittadini tedeschi sopra i 65 anni di età poco male tanto in quel periodo l'età media superava di poco i 50 a quel punto il passo successivo era ridurre i giorni lavorativi della settimana e così nel 1926 henry ford ha introdotto la settimana corta e la stessa cosa l'ha fatta nel 1948 olivetti in italia introducendo anche la maternità retribuita e da allora il tempo destinato al lavoro ha continuato ancora a comprimersi aumentando l'obbligatorietà scolastica dai 10 ai 14 fino ai 16 anni introducendo le ferie i permessi e le ore roll ma la produttività delle aziende però ha continuato ad aumentare grazie all'avvento delle tecnologie questo però ha tutto svantaggio del lavoro di massa basti pensare che alla fine del secolo scorso sono sperite tante figure lavorative come gli strillatori gli svegliatori i calcolatori umani ma senza andare a prendere questi esempi così vecchi pensiamo ai lavori che stanno scomparendo adesso e a quelli che scompariranno nei prossimi anni pensiamo per esempio ai centralinisti alle centraliniste perché ormai le telefonate vengono gestite da bot automatizzati pensiamo alle cassiere e ai cassieri perché ormai vengono sostituiti dalle casse automatiche amazon ha comprato che sono dei piccoli robot in grado di gestire i magazzini nel 40 per cento del tempo in meno rispetto a un magazziniere umano non voglio sbagliare la data ma a gennaio di quest'anno un camion cinese ha percorso 4.500 chilometri andando dalla california fino alla pennsylvania con un carico di 18 tonnellate di burro e tutto senza conducente questo a tutto vantaggio del costo del trasporto portando quasi a zero anche il rischio di incidenti rispetto a un conducente umano a luglio del 2019 a milano proprio in piazza duomo è stato presentato toni il barman robot che è capace di servire 80 cocktail all'ora assolutamente personalizzabili dai clienti che scaricano un app appena entrano nel locale per non parlare poi di bm watson che un sistema di intelligenza artificiale così tanto sviluppato che è capace di rispondere alle domande che vengono fatte nel modo più naturale possibile e la stessa ibm ha annunciato che la prima applicazione commerciale sarà in ambito medico per la gestione del trattamento al cancro ai polmoni possiamo pensare che i trattori si guidano da soli che la frutta viene raccolta automaticamente dagli agro robot e addirittura gli uffici così come sono stati pensati e inventati alla compagnia delle nuove indie nel 1700 ormai stanno scomparendo perché non c'è più l'obbligatorietà o comunque la necessità di aggregarsi negli spazi aziendali per lavorare e poi la formazione ormai tutte learning questo significa che i lavori di routine i lavori più specifici sono i primi che sono destinati a scomparire a tutto vantaggio delle automazioni e delle intelligenze artificiali negli ultimi anni infatti lo stipendio dei neolaureati è diminuito e addirittura il 50 per cento dei neolaureati si è trovato costretto a dover accettare un lavoro per cui la laurea non era neanche richiesta tutta questa trasformazione del mondo del lavoro però non va legata ad una teoria complottista né tantomeno a simpatie o antipatie politiche non c'è nessun progetto dietro è soltanto un processo organico intrecciato col ciclo dell'economia durante le recessioni infatti i lavori di routine quelli più specifici vengono sacrificati per motivi economici ma le imprese proprio nei momenti di recessione si accorgono che l'avvento delle tecnologie più avanzate gli permettono comunque di continuare a produrre addirittura senza dargli più la necessità di assumere nuovamente quando riparte la ripresa e tutto questo oggi ci deve fare riflettere e non perché sparirà il lavoro noi continueremo a lavorare soltanto dobbiamo approcciare il mondo del lavoro in maniera assolutamente differente cercando di interagire noi con queste intelligenze artificiali il lavoro degli artisti per esempio è un lavoro che difficilmente può essere applicato da un software o da un'automazione così come anche tutti quanti quei lavori in cui il valore umano è e resterà ancora un plus ma per tutti quanti gli altri è bene che ci rimbocchiamo le maniche per coesistere e saper affrontare il processo tecnologico questo è il motivo per cui ho deciso di puntare ancora di più sul marketing che poi in realtà è quello che ho sempre fatto ma anche tutto il marketing così come lo conoscevo fino a qualche tempo fa è cambiato perché il valore principale delle aziende oggi è l'accesso ai clienti non più l'accesso alla forza lavoro quindi proveremo a vedere se tutto quello che ho imparato negli ultimi 25 anni funziona davvero prima di tutto però è il caso di definire esattamente il termine marketing e per farlo utilizzo la definizione data da un autorevole ricercatore del campo che si chiama bianos sharp nel suo libro how brands grow come crescono i marchi ha definito il marketing come quell'insieme di attività volte ad aumentare lo spazio mentale fisico e digitale di un brand oppure di un prodotto e proprio grazie a questa definizione di bianos sharp che multinazionali del calibro di unilever piuttosto che procterl e gamble hanno completamente rivoluzionato il loro modo di fare marketing allora la faccio semplice è iniziata la fase 2 ed ho un desiderio esagerato di bere una birra ghiacciata tanto per restare in tema questo è un bisogno e per soddisfarlo utilizziamo inconsciamente la memoria che ci fornisce delle opzioni queste opzioni sono le informazioni che abbiamo acquisito attraverso gli spot pubblicitari e compito del marketing è quello di occupare lo slot più grande della nostra memoria e lo fa normalmente con la qualità delle immagini piuttosto che con la ripetizione degli spot pubblicitari oppure addirittura sviluppando e producendo delle emozioni se penso a me personalmente in questo momento a una birra mi viene in mente leineken e non perché sia quella che mi piace di più ma semplicemente perché c'è uno spot pubblicitario che ricordo di qualche anno fa che mi ha colpito in maniera particolare una cena tra coppie di amici a casa per festeggiare casa nuova a fine cena lei raduna le sue amiche e gli fa fare il giro consueto della casa per fargli vedere come ultima stanza la sua stanza delle meraviglie una cabina armadio gigantesca piena di borse scarpe e accessori e da lì parte subito la meraviglia delle amiche lo stupore un po di invidia ma tutto questo dura un secondo perché dall'altra stanza quella adiacente si sentono urla da stadio sì perché lui il ragazzo fa la stessa cosa raduna i suoi amici gli fa fare il giro della casa e gli fa vedere per ultima la sua stanza dei balocchi che poi in realtà è un frigorifero di 16 metri quadrati pieno zeppo di birre e haine che inghiacciate pronte per essere bevute ecco questo è l'esempio dell'ottimo marketing che ha occupato lo spazio mentale del brand ma perché il marketing sia un ottimo marketing è necessario anche il secondo punto e cioè occupare lo spazio fisico e digitale del brand e del prodotto questo significa che adesso ho il desiderio di un heineken quindi esco vado al pub vado al market oppure semplicemente digito sul google birra heineken ma se line che non la trovo bevo una bex e vaffanculo tanto io una birra volevo ecco questo è il vero significato del marketing fatto bene o del marketing fatto male ciao alla prossima ciao 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 ciao